Benvenuti amici, io sono Pimpos, oggi torniamo su Scary Teacher Andiamo a continuare la maestra, perché ci rimane l'ultimo livello ragazzi Come potete notare siamo ritornati nella vecchissima location estiva Con il mio sfondo marino, acquatico, estate, estate, tutta la vita Ok, niente, ci rimane da fare, l'altra volta abbiamo fatto l'Allergis and Antics Ci rimane da fare il Creepy Crawly Strikes E forse anche tutto il Winter Special 2023 Perché noi nel 2023 effettivamente la maestra non l'abbiamo portato manco un giorno Quindi c'è da fare tutta questa serie di livelli Diamoci da fare ragazzi, iniziamo ovviamente con il Creepy Crawly Strikes Che è quello che è stato rilasciato più recentemente E quindi ragazzi mi raccomando lasciate un bel like anche per il ritorno sulla location estiva Mi raccomando condividete video, commentate, fate tutto quello che bisogna fare in un canale YouTube Mi raccomando Quindi niente, Creepy Crawly Strikes L'altra volta l'abbiamo visto, nel filmato iniziale mi pare che l'avessimo visto Vediamo un po', vediamo, lo rivediamo, qual è il pro, lo rivediamo Ok, la maestra è incinta, hanno quella la zucca Piedone, ovviamente il piedone non può mancare Piedone spia più che altro Attacchiamo la pignatta lì Perfetto, trova la pignatta Ok, e niente E cominciamo a vagare sempre alla ricerca di qualcosa Gli scheletri sono sempre qui da 8000 aggiornamenti Comunque questo è un aggiornamento che forse è stato fatto da Halloween Ed ecco che comunque abbiamo la casa sempre addobbata in stile Halloween La pignatta, eccola qui Ok, trovata Pignatta bug Quella che si fa la ginnastica anche la sera perché la maestra si tiene in forma Place the pignatta on the table in living room Ok Quindi andiamo nel soggiorno a piazzare la vignatta È bloccato, giustamente Quindi me ne vado alla ricerca di un grimaldello, di un martello Però in magazzino troviamo tutto ovviamente No problem Andiamo di qua, andiamo in magazzino Ragazzi fatemi sapere se vi piace la location E se ve lo state chiedendo no, non sono a mare Ovviamente sto utilizzando un green screen No perché negli ultimi video mi avevano detto Ma come fai a registrare al mare? No, è un green screen ragazzi Ok, e niente Andiamo ad aprire la porta Andiamo ad aprire la porta Tac Apriamo la porta Ok Piazziamo la vignatta lì E la maestra mi vede Mi aspettava lì la maestra Rottura di sca Maestra, ma non è niente da fare Ma vai a giocare con Francis a briscola No Maestra, fatti i cacchi tuoi Allora, posso? E niente, quella è seduta lì Se lei non se ne va Vabbè, facciamo una cosa Andiamo al piano superiore Adesso lei andrà al piano superiore Che mi serve lì? Wash an ad per... Che cos'è quello a fare lì? Cosa? Un ragno? Dovevo trovare un ragno? Allora, si può maestra? Ok, andiamo a piazzare la pignatta lì E... Tac Ok Trova qualcosa di pauroso Per... Da mettere all'interno della pignatta E mi sa che abbiamo bisogno del... Del ragno a sto punto, no? Aspetta allora che... Ma io ho messo la pignatta lì Ma non è che la maestra se ne accorge Che gliela sto manomettendo E mi fallisce il livello Domanda E niente Lei è sempre qui Ma io devo gironzolare alla ricerca Sta scendendo Oh, brava la maestra Brava la maestra Ma speriamo che non si accorga Della pignatta posizionata lì La vedo da qui La vedo proprio da qui Spero non... Ecco, l'ha vista, mi sa L'ha vista Infatti No? No, ok Non gliene è fregato niente Meno male Credevo avessi fallito il livello Ho trovato lo spider Ho trovato il ragno Ok Open the pignatta bugs Lead Ok, quindi forse abbiamo bisogno di qualcos'altro Ci facciamo sempre il nostro giro di ispezione Qui, sperando che la maestra non salga Così vediamo se c'è qualche altra cosuccia da trovare in giro Altrimenti ce ne andiamo Che schifo A posizionare questo povero ragno all'interno della pignatta Qui, brilla niente, non mi pare Io che me la salto Qua non brilla niente Nei bagni non c'è mai niente Quindi è andato a controllare Qua nella stanza delle statue Nella stanza delle statue Mi chiudo e mi incoraggio Mi chiudo e mi incoraggio Oh, aspetta c'è Pignatta paper Ok Ehm Ho fatto il G Quello che se la dondo da qui E qui Ok Mi sono spaventato con i fantasmi E qui credo di aver completato il giro a sto punto Quella è salita Quindi io me la sfignerei E me Dov'è? Non vedo niente Me la butto e mi incoraggio Ok Niente Mettiamo lo spider all'interno della pignatta Vediamo che cosa succede Ok Tac Ok il coperchio Put the spider inside Infatti Prima dovevo aprire il coperchio Put the spider Close the pignattas Place the pignatta paper On the pignatta Ok Hang the pignatta Ok Hang the Vida ribbon Ok Penso che dobbiamo portare nuovamente la pignatta lì Quella è scesa veloce Veloce Riattacco la pignatta alla sua postazione Giusto Ok Run away Me ne vado away Molto molto Di fretta proprio Più di fretta Ma la corro Ti chiudo pure i cancelli dell'inferno Chiudi 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 Bimbo Ok Io sono sempre educato Ricordiamoci Facciamo sempre gli educati Quando abbiamo fatto gli scherzetti alla maestra Mi raccomando Chiudiamo lì sempre i cancelli Attenti Poi quella si arrabbia ancora di più Arriverà l'halloween dell'anno prossimo Perché quella se la prende sempre con calma Non scienze E si trovava pure al piano superiore Di qua che raggiunge il giardino Noi Cioè finisce l'estate proprio Finisce l'estate Ma dov'è? Dove sei? Ah ok sta facendo il giro Forse è arrivata comunque Ma è struccia? Ma è struccia se è qui? Ma dove cacchio? Sta facendo il giro da dietro? Io vedo solo oscurità da lei Ok sta facendo il giro completo Ma è ma che ti ci porta? Poteva uscire benissimo da lì Perché ha fatto tutto sto giro? Ma io dico Maestra ma sei pure rincitrullita Comunque è lì è arrivata Da qui si vede? Qui è tutto barricato Comunque è arrivata penso Dovrebbe arrivare da qui a poco Ma quanto cacchio ci ma Si è buggata No sta camminando È arrivata Forse è lì Ha girato l'angolo Oh è arrivata Alleluia Ecco l'ho visto la testolina L'ho vista Eccola là Francis Tac Addirittura Addirittura imprigionata Nelle tele del ragno Ok later Home E vediamo se Quei capitoli del winter 2023 Noi li abbiamo fatti Ma mi sa tanto di no Quindi vediamo solo l'intro Eventualmente di flight to fireworks Quindi volare con i fuochi d'artificio Facciamo svolazzare la maestra Proprio Un decine non è da 100 Vediamo Vediamo se L'abbiamo fatto No io non me la ricordo Questa scena No no io questa scena non me la ricordo Ok Non lo abbiamo fatto ragazzi Find a way to make misty fly Dobbiamo far svolazzare la maestra Con i fuochi d'artificio Questo non lo abbiamo fatto E se non abbiamo fatto questo Non abbiamo fatto neanche gli altri Quelli a seguire ovviamente Tutto Tutto ciò che riguarda Il winter special 2023 Ragazzi Come sempre invito a lasciare un bel like E noi ci vediamo al prossimo video Della maestra Iscrivetevi al canale se siete iscritti Attivate la campanella E per oggi è tutto Al prossimo video